www.sdc.it www.sdc.it Libriacoco www.sdc.it 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 Paolo? Ciao! Ma cosa giocare? Ma che ho il tempo di giocare? Dai Paolo, non ho tempo, dai guarda adesso non ne frega niente a me del calcetto. Dai, dai, vaci con Alberto. Dai, dai, ciao, ciao Cazzo, voglio giocare Cazzo, ho messo Ah, basta Amore, ciao, ciao Sì, tutto bene Certo, perfetto, benissimo Ho una scadenza, lo sai Non ce la faccio dai, ma domani Ti prometto che domani Mi chiudo il telefono in faccia Basta Non se ne può più Andrea Colombo dal talento al successo Il 25 novembre 2020 accadrà qualcosa di veramente speciale Ci sarà l'evento Dal talento al successo Un'occasione per confrontarsi ognuno con il proprio talento e poi confrontarsi anche con il talento degli speaker che parteciperanno all'evento Nell'occasione presenterò il mio libro Verso la libertà Nel quale condivideremo quelle che sono le strategie, le best practice Le attività che ci porteranno a raggiungere una maggior consapevolezza Rispetto a quello che vogliamo ottenere nella nostra vita E poi a decidere quali sono le strade per poter raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo Con successo Vi aspetto tutti Ok, ci siamo Ciao Paolo, tutto bene? È certo che ci sono per la partita di domani sera e ci mancherebbe altro Anzi, ti stai allenando perché dobbiamo assolutamente fargli vedere i sorsi verdi, eh? Senti, vediamoci mezz'ora prima, così ci studiamo la strategia Va bene? Grazie Ciao Paul, ciao ciao Paolo, Paolo Ciao amore, tutto bene? È certo che ci sono stasera Anzi, spero che tu stia mettendo il tuo vestito migliore Perché andremo a festeggiare il nostro posticino speciale Cosa festeggiamo? E beh, il nostro traguardo verso la libertà Va bene, non ti dico altro, non ti dico altro Dai A tra poco Ciao amore, ciao ciao Devo dire Che il nuovo libro di Andrea Insieme al suo evento mi hanno proprio portato bene Buongiorno lavoro, a domani Converti Noi 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 Sono Noi